Un tempo strano questo di fine giugno. Da una parte il Parlamento europeo, a maggioranza schiacciante, compresi i deputati del PPA, del Partito Popolare, fatto singolare, cosa ha votato il Parlamento europeo? Ha votato la definizione dell'aborto come diritto umano. Insieme a questa meraviglia dell'avanzamento del progresso, un paese va controcorrente, si chiama Ungheria. A questo paese ho già dedicato due pillole, la 133 e la 135, perché all'epoca si cercava di ricattare Ungheria e Polonia. Potevano avere i fondi del Recovery Plan solo se avessero accettato i valori della comunità europea che loro esplicitamente rifiutavano. Adesso Orban ha appena ottenuto l'approvazione maggioranza schiacciante di due terzi del Parlamento ungherese per una legge esplicitamente contro la pedofilia, la pedopornografia, questo fenomeno che riguarda tutti i ceti sociali di tutto il mondo con milioni di persone coinvolte, come Don Di Noto, da decenni dimostra. Finalmente c'è qualcuno che, non a chiacchiere, ma con una legge, con un provvedimento, condanna con pene severe questi fenomeni aberranti, aggiungendo anche la proibizione di pubblicizzare nelle scuole, cosa che il decreto legge Zan vorrebbe fare in Italia, vorrebbe introdurre in Italia, una pubblicità per legge di che cosa? Della teoria del gender, della teoria del genere che sarebbe che se io decido oggi, per esempio, nella mia testa, decido di essere un maschio, tutti voi dovete accettare che io sia un maschio e viceversa. Allora, non solo la legge contro la pornografia e contro la pedopornografia, ma anche una legge che impedisce l'indottrinamento ai bambini, ai ragazzi, fino a 18 anni, della cultura, diciamo, LGBT e dell'omosessualità. Apre di cielo. Pensate che questa legge è talmente contraria allo spirito dell'attuale Unione Europea che tante nazioni, ben 17 su 27, tante nazioni si sono scagliate come un solo uomo contro Orbán, perché Orbán chiaramente deve essere, alcuni sono arrivati a dire che questo signore deve essere espulso dall'Europa dal momento che non condivide nessuno dei valori fondanti dell'Europa. La cosa curiosa, drammatica anche, è che l'Italia si è schierata con questi altri 16 paesi e lo ha fatto e lo ha sottolineato nella forma più solenne quando il nostro primo ministro Draghi è intervenuto al Senato a proposito della nota diffusa dal Vaticano contro il DDL-Zan. Ecco, nell'ambito di questa discussione, problema delicato era per Draghi, che suppongo il Presidente del Consiglio non si è andato a cercare l'intervento su questi argomenti, in ogni caso è intervenuto, ha ribadito cose che sappiamo tutti, che sono ovvie, e cioè che l'Italia è uno Stato laico, non è uno Stato confessionale, d'altronde la nota vaticana semplicemente si limitava a constatare che alcune parti di questo DDL-Zan vanno contro un patto sottoscritto dall'Italia con un'altra nazione che è lo Stato del Vaticano, quindi qui non si tratta, si tratta proprio di una norma che confligge con un'altra norma che è quella del concordato, riformato rispetto a quello pattuito da Mussolini nel 29, riformato sotto il governo Craxi. Ora, intervenendo Draghi, ha un passant sottolineato che l'Italia deve tenere conto dei patti internazionali, quale sicuramente è questo del concordato, però ha pure detto che noi siamo parte di quel gruppo forte, formidabile di nazioni europee che sono contro questa oscenità del governo ungherese guidato da Orbán.